No, devi mettere i calzini. Non li hai? No. Perché i calzini? Mi devi pure mettere dei calzini. No, te li metti te, esci e te li metti come percora. Che non è che devi amare i piedi per mettermi un paio di calzini? No, no, non ce la faccio proprio, i piedi... Sì, sì, sì. Sì, sì, è l'islam. È un carattolo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.